Ci stiamo riorganizzando soprattutto, facendo una manutenzione abbastanza precisa della nostra offerta formativa, cioè andiamo a vedere essenzialmente quali sono i settori che stanno soffrendo in termini di iscrizioni e cerchiamo anche di capire che cosa c'è richiesto dalla società e dall'economia, quali sono le figure professionali che possono essere più richieste. E questo è un lavoro che apparentemente sembra abbastanza facile, ma richiede il tentativo di cercare di anticipare quali sono i cambiamenti sia nella società che nell'economia. Accanto a questo c'è stato il tema delle strutture. Ovviamente la pandemia ci ha messo nelle condizioni di ripensare il modo di fare lezione. Io spero che dall'anno accademico prossimo, anche con l'aumento della vaccinazione, si possa riprendere in maniera abbastanza tradizionale. Però in questo anno, anno e mezzo, che abbiamo attraversato in periodi di pandemia, abbiamo dovuto investire sulle tecnologie per fare lezioni a distanza. Quindi abbiamo investito più di un milione di euro sui nuovi computer, sulle telecamere, su microfoni, proprio per permettere agli studenti che non sono in presenza, di vivere la lezione il più possibile da un punto di vista realistico. Insomma, queste sono le cose su cui stiamo lavorando. L'altro tema è quel tema degli investimenti sulle strutture. La vecchia governance e il rettore Stocchi avevano iniziato progetti che riguardano i laboratori scientifici. Quindi tutto il campus ex Sogesta, Campus Mattei, verrà destinato a laboratori scientifici per portarli a livello più elevato della tecnologia. e ci sarà una nuova sede per la Facoltà di Scienze Motorie. Inoltre cerchiamo di adattare tutte le altre strutture a queste esigenze che sono in qualche modo richieste dalle nuove condizioni di lavoro. Quest'anno accademico ha visto veramente un boom di iscrizione. Abbiamo raggiunto circa 5.100 nuovi immatricolati. È un valore che non vedevamo dagli anni 90, quando il numero totale degli iscritti aveva superato 22.000 unità a Urbino. Quindi ci fa molto piacere. Credo che sia anche un riscontro della nostra offerta formativa, come dicevo prima, ma anche dei servizi che sia l'Università e anche la città di Urbino può offrire agli studenti che anche magari per la prima volta escono di casa e quindi vengono in un ambiente dove possono studiare in modo tranquillo e avere questo rapporto molto stretto con i professori che sono disponibili a incontrarli, cosa che magari in Atenei più grandi questo non accade. Grazie a tutti.